Ciao, sono Marco Sconocchini e sono l'ingegnero di Aeromet. Aeromet è un'Italia e produciamo un braccio per il video progetto e un super per il monitor. Questa è la nuova Aeromet line, la Matrix. La Matrix è una super personalizzata per la nuova Epson video progetto line, la nuova P-U line. Questo è per il progetto più piccolo e per il più grande progetto. La Matrix è buona perché è modulare per qualsiasi necessità che vuoi. Se vuoi, per esempio, in questo caso, il flore, avete questo opzionale, il portrè, avete un altro opzionale, o potete usare questo, il K-Tilt, o potete usare il Kite, un altro opzionale che, con la Matrix, ti permettono di fare quello che vuoi, ha anche l'isolazione elettrica e questa struttura è molto, molto robusta e molto, molto buona per qualsiasi necessità. Ok, spero che avete piaciuto la Matrix e ti dico bene, il nostro sito è www.aeromet.com. Ciao!